intanto mi hai pagato 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 mi hai fatto una cazzata se lo chiamavo cioè ho pensato a farti togliere i tuoi perchè più volte se non se ne approfitto quello è normale perciò un po' un po' un po' dove andava? guarda un po' qui ci sono i pizzaiesti fermi stai a vedere l'asse aperta la nostra? stai andare indietro poi volevo fare dei cosi quel giro Craxi stasera abbiamo anche chiuso ci siamo passati adesso magari c'è fuori qualche ciomata minchia che culo il 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 la il 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 Grazie a tutti.